Tutto quello che ti serve per un coniglio. I conigli sono adorabili creature e se ne vorresti prendere uno, probabilmente ti sarei chiesto come prendertene cura e di cosa hai bisogno. Numero 1. Un rifugio. Per prima cosa, il tuo coniglio avrà bisogno di una casa adatta in cui vivere, spaziosa e protetta. I conigli generalmente preferiscono vivere in coppia, quindi dovrai tenerne conto quando scegli la loro casa, in quanto dovrai assicurarti che entrambi abbiano molto spazio da esplorare e in cui nascondersi. Avranno bisogno di un rifugio, un'ora riparata e uno spazio all'aperto per esercitarsi. Se vive all'esterno, dovrai assicurarti che sia completamente sicuro il rifugio, in modo che non possano scappare o essere messi a rischio da predatori. Numero 2. Lettiera e scatola lettiera. Per aiutare a mantenere pulito il loro ambiente, è essenziale una scatola lettiera e una lettiera. Come toilette potete usarne una per gatti e per lettiera va bene quella di legno o anche i pellet in faggio. Dovresti posizionare la lettiera lontano da dove il tuo coniglio dorme e dovrai inoltre aggiungerci fieno fresco ogni giorno e cambiare la lettiera tutti i giorni. Numero 3. Tantissimo fieno e altri cibi. Fieno ed erba dovrebbero costituire circa l'80-90% della loro dieta. Dovrai fornirgli costante fieno di buona qualità e integrarla con le verdure fresche e pellet per conigli. E vi lascio nelle schede il mio video sull'alimentazione dei conigli. Numero 4. Due ciotole. Una per l'acqua e una per il cibo. Questa è semplicemente una cosa base per dare cibo come pellet e l'acqua che è molto importante per mantenere idratato il coniglio. E mi raccomando per i conigli non si usano i beverini in quanto sono dannosi per il loro collo, per i loro denti e non riescono a fornire abbastanza acqua al coniglio. Numero 5. Giochi e arricchimento. I conigli hanno bisogno di molte cose interessanti per mantenerli stimolati e felici. Dovresti acquistare cose come tunnel, piattaforme e bastoncini da rosicchiare, giochi da lanciare e posizionarli intorno alla loro zona. Queste erano le cose principali. In più ti servirà anche snack. Questi sono importanti per legare amicizia col coniglio. Una spazzola. Quando il coniglio sarà nel periodo di muta perderà molto pelo ed è importante spazzolarlo regolarmente. Materiali per pulizia adatti a conigli. Un trasportino. E delle copertine. Un trasportino. Un trasportino. Un trasportino. Un trasportino. Un trasportino. Un trasportino.